ero talmente preso a cioppare che ho lasciato andare la registrazione e non mi sono reso conto che la batteria della videocamera si stava scaricando vabbè poco male andiamo nel bosco e poi torniamo qui Sika 150 di Solognac vale a dire il coltello da bushcraft di Decathlon una lama che molti appassionati stavano aspettando perché dopo diversi modelli di piccole dimensioni realizzati con acciai non troppo performanti mettiamola così Solognac finalmente rilascia quello che è un coltellone in piena regola in d2 presentato come il coltello da bushcraft per eccellenza sarà davvero così e soprattutto come l'ho avuto facciamo un passettino indietro sono stato contattato da Decathlon e in particolare da un responsabile del brand Solognac che è quello che si occupa dell'attrezzatura per la caccia e il tiro sportivo Solognac ha recentemente lanciato una linea di prodotti specifici per il bushcraft e sta chiedendo la collaborazione di alcuni creator per testarla e recensirla è stata data anche a me questa possibilità e io ho accettato volentieri perché so che molti di voi si riforniscono da Decathlon e quindi sono interessati a questo genere di prodotti oltre al coltello mi è stato mandato un tarp una maca con la sua zanzariera venti metri di paracord dovrebbe arrivare anche un accetta e tutti i prodotti che vedremo nei prossimi video perché oggi voglio concentrarmi esclusivamente sul siga 150 è ancora in tonso ce l'ho nello zaino lo provo oggi per la prima volta insieme a voi quando si parla dei coltelli della solognac il popolo dei social si divide tanto per cambiare c'è chi pensa siano coltelli onesti che per quello che costano vanno fin troppo bene fanno il loro lavoro chi invece li reputa dei coltelli scadenti assolutamente da evitare perché con le stesse cifre si può prendere di meglio per me è la prima volta con un siga in mano quindi voglio cercare di trasformare il mio cervello in una tabula rasa dimenticare tutto ciò che ho visto e che ho letto riguardo questi coltelli e cercare di farmi un'idea mia basata principalmente sull'utilizzo che ne farò tra poco sul sito di decathlon si legge che il siga 150 è un coltello concepito per il bushcraft in pratica un utensile grosso e robusto con cui si possono fare tutti i tipi di lavori compresi shopping e batoning lama da 15 cm in d2 con uno spessore di 4 mm profilo full flat con angolo di affilatura di 20 gradi costruzione full tango ovviamente guancetto in g10 fodero in kydex con acciarino da strofinare su vedete questa parte qui della lama che non è smussata una cosa interessante che si nota subito è che il manico è sagomato in modo da permettere diversi tipi di presa cioè una presa arretrata per il shopping una presa chiamiamola normale intermedia e una presa avanzata che consente di effettuare agevolmente alcuni tipi di lavori dopo questa veloce carrellata sulle caratteristiche direi di passare ai test voglio mettere alla prova il coltello in alcune operazioni che sono quelle più comuni nell'ambito del bushcraft partirò dai lavori di fino fino ad arrivare ai lavori più pesanti siete pronti vediamo come lavora il siga 150 come prima cosa voglio effettuare il classico test della carta così vediamo l'affilatura di fabbrica direi che taglia bene non è proprio un rasoio ma d'altra parte su un coltello da lavoro di questo tipo non è neanche necessaria un'affilatura troppo spinta attenzione quando mi capita tra le mani un nuovo coltello da provare di solito la prima cosa che faccio è un try stick che non è altro che un bastoncino su cui vado a praticare tutta una serie di intagli che sono quelli che più comunemente vengono utilizzati nel bushcraft delle tacche, delle riduzioni di sezione questo serve sia per prendere familiarità con il coltello per vedere come lavora, per sentire se è comodo in mano per testarne le doti di taglio nei lavori di fino altro elemento assolutamente indispensabile nel bushcraft sono i feather sticks dei riccioli ricavati nel legno che servono per accendere il fuoco la presa avanzata non è niente male allora ok potete fare la stessa operazione su tutte e quattro le parti del tronchetto e ottenete così questi picchetti a sezione triangolare molto robusti la stessa operazione del tronchetto il tronchetto il tronchetto il tronchetto sono passate i lavori pesanti, ho spaccato un po' di legna ed è andata bene adesso vediamo come se la cava col chopping un po' di legna il tronchetto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se la batteria della videocamera non si fosse scaricata avrei concluso il video nel bosco. Dato che però devo aggiungere del girato per forza di cose, se non altro per darvi le mie impressioni sul coltello, ho pensato di prolungare il test. Se dal caso che abbia qui della legna bella pronta e disponibile, voglio insistere con i lavori pesanti. Vediamo che succede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo è un pruno mezzo selvatico, un legno veramente tosto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualche settimana fa ho avuto l'ennesimo piccolo incidente con le lame. Inoltre mi porto via un pezzo di pollice. Scusate se non parlo mentre lavoro ragazzi, ma voglio rimanere concentrato. Voi osservate attentamente che dopo traiamo tutte le conclusioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi, dopo i test effettuati in questi giorni sono pronto per darvi le mie impressioni sul SIGA 150, specificando che si tratta che si tratta delle mie prime impressioni, riferite cioè non ad un utilizzo sul lungo periodo ma semplicemente ai lavori svolti per la realizzazione di questo video. Lavori che comunque sono stati di una certa importanza, secondo me più che sufficienti se non altro per evidenziare eventuali criticità. Devo fare una precisazione, all'inizio del video ho detto che il SIGA 150 è stato presentato come il coltello Bushcraft per eccellenza. Sono andato a ricontrollare perché mi faccio sempre mille scrupoli in questi casi e adesso leggo il coltello ideale per avvicinarsi alla pratica del Bushcraft. Allora le cose sono due, o mi sono sbagliato e in quel caso chiedo scusa e mi autocorreggo, oppure la dicitura è stata cambiata e allora dico ben fatto agli amici di Solognac, anche perché questa dicitura qui mi sembra molto più appropriata rispetto a quella precedente. Detto ciò, ragazzi, questo per me è un coltello che funziona, nel senso che sono riuscito a fare tutte le operazioni che avevo sulla lista, lavorando anche in maniera abbastanza agevole. È andato bene nei lavori di fino, è andato bene nei lavori più pesanti, si maneggia senza troppa difficoltà con tutti e tre i tipi di presa. Il fodero è buono, il firestil funziona bene, è il coltello migliore del mondo? Assolutamente no, come tutte le cose, ha i suoi difetti. Non è particolarmente performante nel chopping, ad esempio, nonostante abbia una buona penetrazione e nonostante la presa arretrata sia anche comoda per quella che è la conformazione della mia mano. Questo è dovuto, a parte alla mia mancanza di forza bruta nel colpire, ma credo sia dovuto anche ad una distribuzione della massa non proprio ottimale, o comunque non ottimale per il chopping. Sicuramente non brilla per quel che riguarda la tenuta del filo, dopo qualche ora di lavoro si sente già che non taglia più come prima. Questo per molti può non essere un problema, c'è chi dice ok, se perde il filo facilmente vuol dire che è anche facile da riaffilare. Si portano la pietra, si mettono lì davanti al fuoco e si divertono così. Il D2 è un buon acciaio per coltelleria, lo dimostra il fatto che diversi brand lo utilizzano per produrre lame anche molto costose. Però attenzione, se c'è una cosa che ho imparato sui coltelli, parlando con maker e appassionati, è che per avere un buon coltello non basta avere un buon acciaio. Bisogna anche andare a vedere quali trattamenti termici vengono fatti su quell'acciaio in fase di realizzazione del coltello. Trattamenti termici che hanno un loro costo e che incidono anche pesantemente su molte caratteristiche del coltello, come ad esempio la tenuta del filo. Ecco, su un prodotto di questa fascia di prezzo, secondo me è anche lecito non aspettarsi una roba particolarmente spinta. Ora qualcuno dirà, non è vero, con la stessa cifra prendi questo modello o quest'altro modello, che sono molto meglio, sono temprati da Dio, tengono meglio il filo, eccetera eccetera. Ok, può essere. Il fatto è che io non sono un esperto di coltelli. In vita mia ne ho maneggiati pochissimi. Non sono informato su ciò che offre il mercato e quindi non so dirvi cosa potreste prendere di meglio con la stessa cifra. Con questo video volevo solamente darvi le mie prime impressioni su un prodotto che era molto atteso e che mi è stata data la possibilità di testare, senza la pretesa di dirvi cosa dovete acquistare perché il vostro equipaggiamento lo potete scegliere voi e soltanto voi. Non è finita qui comunque perché abbiamo tutta quell'altra roba da vedere, il tarp, la maga, la zanzariera, il paracord e l'accetta. Quindi I'll be back, il bottone dell'iscrizione lo dovete disintegrare e anche quello del like. Ciao!